Sono partiti oggi i lavori per ampliare il complesso edilizio che ospita il corso di scienze ambientali del campus di Ravenna di via Sant'Alberto, che da tempo necessitava di ulteriori spazi per accogliere gli studenti. Con un intervento dal valore di 4,5 milioni di euro, verrà infatti costruito un nuovo edificio con un'estensione di circa 1100 metri quadrati collegato a quello già esistente. All'interno del complesso verranno realizzate nuove aule, laboratori e una biblioteca in grado di accogliere un numero maggiore di studenti. Al taglio del nastro che ha simbolicamente dato il via ai lavori è preso parte anche Francesco Bertini, rettore dell'Università di Bologna, che ha accolto con entusiasmo il progetto. Oggi inauguriamo l'avvio del cantiere che completa o risponde alle esigenze attuali del nostro polo di scienze ambientali. È un cantiere importante, è un cantiere da 4 milioni e mezzo di euro, dovrebbe concludersi luglio dell'anno prossimo. È un cantiere di circa 1000 metri quadrati, soprattutto servizio agli studenti, con un progetto secondo me anche molto bello da un punto di vista architettonico che ricuce in altezza con una specie di grande ponte, ricuce i vari insediamenti che abbiamo in questa zona. Questo è un cantiere molto importante ma è uno dei tanti cantieri che abbiamo avviato, che stiamo avviando diciamo in una prospettiva di crescita e sviluppo del nostro campus di Ravenna che in questi anni è cresciuto e che ha bisogno oggi di un ampliamento e riqualificazione degli spazi, dei contenitori. Quindi questo è uno di una serie. I lavori, come vedete, sono iniziati in questo momento con un po' di scavi e una grande trivella perché sarà un edificio che parte da dietro rispetto a quello che vediamo, con due piani di laboratori didattici, saranno quattro in tutto. Verrà un ponte di vetro e acciaio però all'interno del quale avremo quattro aule e la biblioteca e si verrà a congiungere con l'edificio che abbiamo qui vicino, che è quello dei laboratori di ricerca. E quindi questa struttura sarà un tutt'uno, unita proprio da questo nuovo ponte, diciamo così, e avremo tutti i servizi necessari qui, dalle aule alle biblioteche, ai laboratori didattici, senza avere i ragazzi che si distribuiscono per vari edifici a seconda del momento e delle necessità. Quindi una cosa molto bella che aspettiamo da parecchi anni. Ravenna diventa sempre di più una città universitaria. Qui siamo a Scienze Ambientali, dove tutto ha avuto inizio, nel senso che le prime lezioni alla Casa Marta di Ravenna si sono tenute proprio di Scienze Ambientali, ormai molti decenni fa. Qui invece parliamo di un investimento molto atteso che finalmente potrà portare tutte le attività di laboratorio e di lezione del comparto di Scienze qui nella sede principale di Via Sant'Alberto. è un investimento, ripeto, che era molto molto atteso ma che fa fare un grande salto di qualità per gli studi ambientali scientifici che non sono solo, diciamo, una delle eccellenze del nostro campus ma sono anche uno dei punti di interazione più forti perché la vocazione ambientale sia della città che dell'università qui si incontrano.